Si fingeva un lontano parente emigrato per piazzare a cifre ingenti orologi in realtà quasi senza valore. Presenza elegante, spavalderia e abilità rendevano perfetto il mix con cui il truffatore seriale otteneva la fiducia delle proprie vittime. A dare una mano al 43enne Campano, protagonista della vicenda, probabilmente anche la mascherina, che lo rendeva meno identificabile. Il truffatore ha così tentato più volte di piazzare gli orologi a malcapitati anziani. Riusciva a farsi ritenere davvero un lontano parente con cui si sarebbero potute tenere in contatto, scambiandosi addirittura i numeri di telefono. Proprio nell'ambito delle attività per rintracciare il truffatore, i poliziotti del commissariato di Sansepolcro hanno individuato un'auto con a bordo una persona che, per il suo atteggiamento, li ha insospettiti. Gli agenti hanno così deciso di seguirla mentre si spostava dal borgo a San Giustino Umbro. Proprio qui è stata beccata mentre avvicinava una persona anziana, probabilmente per l'ennesimo tentativo di truffa. I poliziotti hanno bloccato l'uomo in flagranza e lo hanno perquisito. Addosso aveva 11 orologi senza valore, pronti per essere piazzati. Il 43enne con precedenti è stato così portato in commissariato e denunciato per tentata truffa aggravata. Nei suoi confronti è scattato anche il provvedimento di divieto di ritorno nei comuni di Sansepolcro e San Giustino.